Un saluto dal Tg della Mobilità. Sono partiti lavori di manutenzione straordinaria nel sottopassaggio che collega via Marsala con via Giolitti. In un primo momento, sino al 14 di novembre, viene coinvolto con un restringimento il tunnel che porta su via Giolitti, direzione piazza dei 500. Poi, dal 15 novembre sino al 19 di dicembre, sarà la volta, sempre con un restringimento, del tunnel che porta di nuovo su via Giolitti, ma direzione porta maggiore.